Sei bella, guarda, 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 come state? Bene, 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 ma, ma, bene. Dai, si, si, splendido, di, 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 sub, 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 dimmi come andate, come andate. Allora, zia, concorso, c'erano 21 ragazze da tutta Italia. 21 ragazze. Belle, bellissime, ce l'hanno fatto fare, l'ha sfilata col cos'un da bagno, l'ha sfilata con l'abito da sera, la prova di ballo, sapevi vedere il portamento, ecco. Ho capito, bellissimo. Beh, dimmi la cosa, e la fascia di mese, l'hanno data, zia? Non sono arrivata a prima per un pelo E madonna Pure quelli hanno condato Mia cara miss